Lo ZO di 105, congiuntamente alla porca troia Airlines, vi presenta Non partire, non partire, ti prego, il secondo film di Marco Mazzoni, dal 32 marzo nei migliori cinema. Malpensa, 28 febbraio 2016. Un uomo mentalmente instabile è pronto per imbarcarsi sulla sua compagnia preferita, con destinazione Miami, dove ad attenderlo c'è la sua stupenda moglie. E il suo amante ne... Ore 12. Il malcapitato Mazzoni è seduto sul 737 dell'Amerigo Airlines, completamente stordito dagli ettolitri di alcol, che ha assunto per rendere meno pesante il viaggio di 10 ore. Ore 12 e 10. L'Amerigo Airlines invita tutti i passeggeri a scendere dal velivolo, causa un malfunzionamento del cavalletto laterale. Ore 12 e 11. Il Mazzoli, colto da istinto omicida, abbraccia un'ascia e minaccia tutto il personale della compagnia aerea, che lo abbonisce consegnandogli un voucher per una notte di droga e puttà in un albergo adiacente il Terminal. Ore 15 del 29 febbraio. Il velivolo, sottoposto a numerosi controlli, esce dall'hangar e viene messo in pista pronto per il decollo. Si scoprì che oltre alla rottura del cavalletto laterale, il velivolo presentava anche danni al frullatore delle hostess, un paraurti ammaccato e una piccola crepa al parabrezza, causata da un piccolo sasso vagante in autostrada. Tutto risolto in un giorno, quindi, e il Mazzoli, in tarda serata, è riuscito a riabbracciare la moglie e l'amante negro della moglie. Mazzoli, se prendevi il tre... Solo per segnalare a Spine che le 15 del 29 febbraio sono oltre un'oretta. E poi è Amerigo e Rai. Non puoi comprendere. Sono partito il 27, ignorante, con la testa da ritardato. Ma muori, coglione! Ma tua madre è quella troia che fa la vostra. Ma non ti molla mai Non ti molla mai Troppo tardi ormai Vai maestro! Non ti molla mai Non ti molla mai Canta, fammi sentire la voce, vai! Vai, adesso, vai, a sola, vai! Welcome to the zoo Vai, adesso, vai, a sola, vai, a sola, vai! Non fa giù Non fa giù Dai, dai! Siamo un zoo Lo zoo di 105 Il programma più ascoltato di da